Ciao! Uno dei video che mi richiedete sempre di più, qual è? Regali di compleanno, regali di Natale e Makeup Collection. Giuro che per la Makeup Collection mi sto organizzando. Regali di compleanno ve l'ho fatto, ve lo lascio qua in fondo a questo video. E regali di Natale, eccolo qua, che cosa ho ricevuto a Natale. Anche se in questo video vi farò vedere un ultimo regalo di compleanno che ho ricevuto, che quindi ho detto, ok, va bene, lo metto nel video dei regali di Natale. Ok, ci siamo. Cominciamo subito dal più classico dei regali di Natale, qual è il pigiama? Ecco, eccolo qua, un trittico di pigiami. Sapete che ormai da anni lotto per questa cosa, che ci sono o i pigiami da porno star o i pigiami da trenne. Non ci sono dei pigiami normali, ecco questo è un pigiama, diciamo, normale. Quello che intendo io per normale. Pantalone grigio, così con tutto un po', diciamo, una fantasia animalier o macchioline. Non si sa che cosa stia a rappresentare. Però ha il fiocchettino rosa. Vi dico la marca. Se c'è? Non c'è la marca, niente. So che è stato preso nel negozio di Intimo che c'è in Corso, mia del Corso, a Roma, più o meno davanti alla Sephora, quella vecchia. La sua magliettina che ho lavato e stirato. Il pantalone no, perché non era asciutto quando l'ho lavato. La magliettina è questa qua. Eccola qua. I'm cute. È carino, vero? Non è... Ah, ecco, si chiama Noi di Notte. Non la conosco questa marca. E sulle maniche è anche questa toppettina qui. E poi la sua vestaglietta, dolcissima, con il cappuccio, con le orecchiette. Ed eccola qua, molto molto lunga, in peluche. Lo trovo un regalo delizioso. Vediamo se riesco a metterlo. Ok. Poi, secondo regalo. Notate niente di nuovo. Allora, sono due collane. Non una, solo due. Sapete la mia enorme passione per Marina Franchi gioielli. Vi lascio sempre qua sotto nel box informazioni il sito. Perché mi confondo sempre su marinafranchi.com, marinafranchi.it. Quindi o ve lo scrivo qua, oppure ve lo lascio qua sotto nel box informazioni. Sapete che uso questi gioielli da... Sanno due anni, tre anni, non lo so. Uso solo loro, praticamente. Non uso altre collane che non siano loro. Perché adoro il loro stile, secondo me, proprio parte di me. Poi tutto con le stelline. E questa volta, guardate, c'è questa collanina. Questi qui sono in oro rosa. Con il gufetto, con le pietre nere. E la particolarità è che da questa parte, ecco di qui forse sì, c'è anche la luna. Ecco, non la trovo. Vabbè, adesso a tatto non riesco. Eccola qua, la luna. E poi l'altra, invece, è la stellina. Sempre con le pietrine nere. E le trovo deliziose così, da portare insieme. Perché appunto sono due simboli che portano fortuna. E poi trovo che l'oro rosa sia molto più neutro dell'oro bianco, dell'oro giallo. Perché si confonde proprio col colore della pelle. Quindi non lega. Potrei usare altri gioielli in oro bianco e in oro giallo. Che comunque non legano. E nella parure c'era anche questo braccialettino. Sempre con la stellina uguale alla collana. E devo dirvi una cosa. So che in tante hanno la mia difficoltà nel trovare i bracciali. Perché vedete, ho un polso veramente molto piccolo. È piccolissimo. È tipo 12, 13, non lo so. È piccolissimo. E questo non l'ho neanche messo all'ultimo buco, ma l'ho messo al penultimo buco. Quindi se anche come me avete difficoltà a trovare dei bracciali molto stretti, questo è perfetto. Ma anche se avete la difficoltà a trovare dei bracciali un po' più morbidi. Perché guardate quanto spazio ha, quanta catena ha. E niente, questo è un regalo. Che ho adorato. Lo amo. Ce l'ho sempre su. Ecco. Terzo regalo. Vabbè, ve l'avevo già fatto vedere in un vlog. Questo è il regalo di Mr. G. Sono felicissima. Questo è l'iPhone X. O iPhone X. O iPhone X. Chiamatelo come volete. Sempre lui. So che in tantissime si sono trovate male. L'hanno restituito. Io mi trovo benissimo. Non so, ditemi perché mi trovate male. Io ho sempre avuto iPhone e mi trovo benissimo. L'unica cosa è che non c'è la percentuale della durata della batteria. Ma basta scorrere e la trovate. E l'altra cosa è che bisogna schiacciare un po' più tasti per spegnerlo. Ma non vedo differenze con gli altri iPhone. Anzi, fa delle foto pazzesche. Poi, crema mani di Chanel. Questa è la Creme Man Chanel. È stupenda. È bellissima questa forma ad ovetto. Stupenda. Poi, la mia amica Daria. Ormai è diventata anche la vostra amica Daria. Mi fa sempre dei regali stupendi. È una mia follower. È una ragazza che mi segue da tanti anni. E ogni anno, al mio compleanno, a Natale, mi fa sempre dei regali meravigliosi. Ormai avete imparato a conoscerla anche voi. Guardate che bella. Mi scrive sempre delle lettere dolcissime. Mi fa sempre dei regali topissimi. iPhone X. Questa cover stupenda. Molto chic. Chissà di che colore è il cappello. Vi siete abituati a vedermi scura? O non ancora? Io no, non ancora. Poi, un power bank da 2500 MHz. Con i felicotteri. Amo, amo, amo. Alla follea. Poi, queste pin. Paper clip. A forma di stellina. Anche se si riesce a vedere. Eccolo qua. Forma di stelline d'oro. Che metterò nella mia agenda proprio come porta fortuna. Ma per caso mi piacciono le stelline. No. Poi, questo che è un segnalibro. E di carlatinto artigianato. Volevo chiederti una cosa, Daria. Ma è casuale che sia identica a me? Vabbè, a parte i capelli che mi erano biondi. È casuale. O è stata fatta apposta a mia immagine e somiglianza. O l'hai trovata così casualmente. O l'hai presa così casualmente. Poi hai vestito anche di blucina. Mi dici, com'è andata? Cioè, è stata fatta a mia immagine e somiglianza? O è una casualità? Oppure l'hai scelta tu perché mi assomigliava? Ecco. Sono molto curiosa. Poi, volevo farvi vedere anche che ogni regalino, come sempre, l'ho conservati, sono tutti incartati singolarmente. Guardate. La cura e l'amore che mette in ogni regalo. Grazie, Daria, lo sai. Grazie di cuore. Ti ho già ringraziato in privato e ci tenevo a ringraziarti anche qua pubblicamente. Sei sempre tanto speciale. Quindi grazie, grazie, grazie mille. Altri regali di Natale. Questa magliettina deliziosa di Cocca Collection. Proprio il mio colorino. Cioè, a me piace tanto. Ho tutto l'armadio praticamente di questo colore. Che è un colore cipria. È un rosa tenue molto molto leggero. Un rosa antico chiaro chiaro chiaro. È una maglietta così tutta plissettata. Invece dietro è liscia. E la trovo super chiccosissima. Anche ad abbinare tipo con il pantalone insieme il pelle. La trovo super bon ton. Con quel look invece aggressivo. Magari appunto il pantalone insieme il pelle. Con un tacco cattivo. Ecco, mi piacciono tantissimo questi contrasti. Poi la mia amica Giada, italian fashionista. Seguitela tutti su Instagram perché ha il profilo più top del mondo. Mi ha regalato questa che è una super mega sciarpone in cashmere. Stupenda. Cioè, questa qua è una coccola. Infatti gli ho detto, ma mi ha regalato una nuvola. Praticamente una nuvola morbidissimissimissima. Con tutte le frangione. Ed è bellissimo. Mi piace tantissimo questo look. Tra l'altro ho cercato da matti l'anno scorso una sciarpa così cicciona. Super cicciona. E non ero riuscita a trovarla. Perché mi piace il look tutto streminzito. Con la mega sciarpona gigante. Ecco, mi piace da matti. Quindi aspettatevi qualche foto su Instagram proprio così. Poi ho ricevuto tantissimi regali dalle aziende. Tantissime cose mangerecce e tantissime cose per beneficenza. Quindi sono felice che tante aziende, invece di fare un regalo a noi, tante aziende fanno i regali alle persone che ne hanno più bisogno. E fra tutti i regali volevo farvi vedere uno così simbolico. Un regalo che mi ha fatto Dior. Che è questo super mega paccone di Boe Clicquot. Che sapete che è del brand Louis Vuitton. Guardate che bello. Dentro c'è la bottiglia vestita a festa. Perché è tutta argentata. Adesso c'è ancora dentro le patatine di polistirolo. con due bicchieri. Ecco, si riesce a vedere. Questi sono i due bicchieri. Questa è la bottiglia vestita a festa. Non l'ho bevuta per Capodanno perché volevo farvi il video. Cioè, vi rendete conto? Adesso, per la torna, Mr. G. Una di queste sere festeggeremo anche la vostra salute. Poi, l'ultimo regalo. Sì, basta. Sì, sì, ok. Tutti i regali sono questi. Ah, anche il regalo di mia suocera è un parurletto. Cuscini nuovi, trapunta, eccetera. Che però dobbiamo andare ancora a comprare. Quindi poi quando la comprerò ve la farò vedere. Tutti i cuscini nuovi perché dopo un po' c'è una credenza molto, 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 molto antica che dicono che dopo un po' di anni che si dorme sullo stesso cuscino e sullo stesso materasso andrebbero cambiati. Ma non per usura. Proprio perché soprattutto il cuscino diciamo intrappola tutti i vostri pensieri e spesso anche i pensieri non belli. Quindi ogni tot di anni andrebbero cambiati i cuscini. Io li voglio cambiare sia perché sono andati perché vabbè noi stiamo insieme da 11 anni e quindi questi cuscini hanno un po' più di 11 anni quindi sarebbe ora di cambiarli ma anche per questo motivo. Questa cosa qua me l'ha detta tantissimi anni fa una mia amica io avevo dei problemi perché non riuscivo a dormire sonni tranquilli e lei mi ha detto ma il tuo cuscino, che cuscino è? E gli ho detto, ho chiesto a mia madre mia mamma ha detto che quello era il suo cuscino da ragazza quindi io avevo ereditato il cuscino da ragazza di mia madre quindi avrà avuto tipo 40 anni, non lo so e mi ha detto toglielo, cambialo sarà una combinazione, non lo so ma quando ho cambiato il cuscino poi sono riuscita a riposare bene e quindi ho detto ok, dopo 11 anni che li vedo io quindi hanno più di 11 anni ho detto, è l'ora di cambiare i cuscini quindi abbiamo 4 cuscini da cambiare e poi appunto vorremmo rifare un po' tutto il letto e quindi niente, quello è stato il regalo di mia suocera stupendo e poi adesso voglio farvi vedere e invece il regalo di compleanno mi avevano regalato un maglioncino di pinco tra l'altro bellissimo e solo che era in mistolana alcune volte riesco a sopportare di mistolana altre volte invece no questo era un mistolana che non riuscivo a sopportare perché mi ero già riempita di bolle solo il fatto di infilarmelo mi ha fatto allergia sulle braccia e sulla pancia che sono i due punti più delicati per me e poi appunto se magari hanno anche il collo alto qua sul petto mi riempio proprio di macchie rosse e comincio a grattarmi comunque sono andata a cambiarlo da pinco e ho preso due cose stupende della nuova collezione guardate anche tutto con le stelline la carta la ragazza adesso non mi ricordo cosa avessi forse avevo il gilet quello di peluche addosso con le stelle infatti mi fa visto che ti piacciono le stelle ti do il sacchetto con le stelle e la carta con le stelle lo so che non sentirete niente eccola qua ho preso questa gonna pazzesca stupenda bellissima blucina e un rosso corallo così rimane super elegante però viene sdrammatizzata da questa banda che sapete che va tantissimo anche sui pantaloni la banda da carabiniere e questa gonna e poi ho detto ok era abbinata questa super maglietta potevo lasciare lì l'accoppiata anche perché poi è lo stesso identico colore io sono una maniaca degli abbinamenti perfetti e quindi l'ho presa e questa maglietta qua c'è con tantissime scritte di tantissimi colori non è la scritta mia preferita ma era l'unica che c'era cioè questa scritta è legata a questo colore quindi scegliendo questo colore ho dovuto scegliere dove ho dovuto prendere questa scritta ed è un mix perfetto mi piace tantissimo da mettere sia dentro la gonna con un look carino è più elegantino col diamantino però viene sdrammatizzato più sportivo oppure anche fuori ancora più sportivo magari con la scala da ginnastica questo è tutto questi sono tutti i regali di compleanno è Natale ok lo so che mi sono dimenticata qualcosa ma al massimo ve li inserirò in qualche video shopping e mi scuso se ho dimenticato qualche regalo non so forse perché ho rivoluzionato caso ho sistemato tutto quindi sicuramente sarà qualche cosa che ho già sistemato e che non mi ricordo chiedo benia comunque spero tanto di avervi tenuto a compagnia e noi ci vediamo al prossimo video ciao